è arrivato il momento dell'ospite di oggi che do la parola a Lorenzo Masieri per la presentazione ultima mezz'ora insieme come sempre a mezz'ora dell'ospite siamo con Simone Negri consigliere di regione Lombardia buongiorno buongiorno grazie per l'invito grazie a lei per essersi collegato con noi chiaramente volevamo parlare un po' di trasporto in questi giorni in questi giorni in cui non si fa altro che parlare chiaramente di Trenord consigliere ci vuole spiegare un po' cosa è successo altri dieci anni cosa cosa è successo dieci anni di sicurezza quindi giusto di servizio al top beh insomma la fotografia che si potrebbe fare di Trenord è impietosa proprio due giorni fa c'era un bel articolo in cui veniva raccontato il calvario di tanti pendolari che utilizzano la linea Milano Mortara che è sicuramente la linea peggiore della Lombardia però è una delle cinque linee peggiori d'Italia se andate a vedere il rapporto pendolari a 2023 ma anche quelli precedenti emerge come una delle linee lombarde che dovrebbe essere strategiche collegare ambiti diversi della Lombardia la Lomellina il Pavese Vigevano eccetera sia in realtà una delle peggiori linee a livello italiano credo che sia la fotografia più emblematica di un servizio ferroviario regionale quantomeno traballante che ha delle criticità enormi e ciò nonostante la Giunta Fontana ha deciso di rinnovare per altri dieci anni senza gara senza gara è perché è quello poi anche un tratto di servizio a Trenord e questa credo sia la decisione che ci condizionerà tantissimo però consigliere le faccio una domanda subito così allora senza gara è stato dato a Trenord l'allungamento appunto di questo contratto di dieci anni ma se si fosse fatta una gara secondo lei ci sono degli attori interessati a prendersi in mano tutta sta patata bollente perché questa è la domanda che ci facciamo in molti e soprattutto facciamo che una gara vince qualcun altro quanti anni ci vogliono per una transizione da Trenord a un altro ente domanda giustissima infatti io credo che le premesse per un affidamento diretto visto le condizioni da cui siamo partiti ci fossero nel senso che la legge lo permette c'è ovviamente il grandissimo tema dei lavoratori anche nell'ottica delle gare bisogna costruire un modello per cui da un lato in caso di passaggio i lavoratori devono essere tutelati pienamente e dall'altro anche bisognava dare la possibilità a Trenord di essere competitiva e di potersi presentare lei stessa alla gara che Regione avrebbe dovuto indire c'è da dire che i principi comunitari sono chiari i principi comunitari ma la stessa legge 6 regionale del 2012 indicano la gara come via maestra per l'affidamento dei servizi si è arrivati assolutamente non pronti è vero che c'è stata la pandemia ma ci sono già state delle proroghe successive in questi anni non si è fatto nulla per apparecchiare la tavola per preparare questa gara e ne stiamo pagando le conseguenze e pagheremo a maggior ragione in seguito sull'appetibilità l'appetibilità c'è nel senso che se non c'è l'appetibilità del servizio ferroviario regionale che è la principale regione d'Italia con Milano credo che ci sia con gli aeroporti per dire c'è anche un progetto questo importante di sviluppo della rete ad esempio verso Orio e Serio insomma ci sono poi margini di miglioramento enormi che fino ad oggi non sono stati esplorati quindi dal punto di vista dell'appetibilità sicuramente c'è anche perché ci tengo a sottolinearlo non è che la regione Lombardia affida per 10 anni il servizio Trenord alle medesime condizioni no lo affida da un lato prevedendo sulla carta un aumento dei servizi nell'ottica del 20% servizi che però saranno forse da realizzare negli anni successivi e parallelamente però pagando fin da subito un corrispettivo fisso che è di 97 milioni di euro superiore a quello che Trenord percepiva prima dalla regione quindi voglio dire non mi che a Trenord vada così male non siamo in una dinamica sicuramente non di concorrenza ma neanche di rischio di impresa particolarmente accentuato ecco ma infatti consigliere lei ha scritto sui social chi non vorrebbe essere Trenord e fa alla fine un paragone molto chiaro lo leggo velocemente è come se Trenord fosse un'impresa che opera nel vostro condominio sarebbe incredibile sarebbe come se a fronte di un servizio fatto di ritardi mancanze rendimento scadente il vostro amministratore decidesse di rinnovare l'incarico per altri dieci anni con nessun'altra offerta valutata è sostanzialmente questo magari ancora un po' più comprensibile io gli voglio bene a consiglieri come Simone Negri perché sono anche ex sindaci quindi sanno cosa vuol dire ma un altro ex sindaco è anche il presidente della regione non siete riusciti tra ex sindaci a trovare una quadra? Allora la dico grossa io non ho idea fino a che punto il presidente di regione abbia contezza della vicenda di Trenord presidente di regione gli assessori che sono della partita nel senso che perché non prendono il treno o perché non faccio capire? No un po' tutte e due secondo me anche perché ed è uno dei temi principali che stiamo affrontando in questo primo anno di legislatura regionale almeno per quello che mi riguarda il nuovo mandato è che ci pare che manchi la visione ci pare che manchi qualcuno che complessivamente ha in mente dove si sta andando si procede come dicevi te come diceva diciamo del lei o del tu non lo so come dicevi te giustamente avendo anche fatto il sindaco in un comune qualsiasi mi sarei aspettato che a fronte di questa mole di contratto per dieci anni alla fine sono quasi 6 miliardi di euro quindi non è che parliamo di noccioline no? Io mi sarei aspettato anche dal punto di vista estetico una presentazione di quello che si andava a fare di ben altro impatto cioè in un comune l'avremmo comunque condita con uno studio fatto dal Politecnico no? Da qualche esperto che anche facesse intuire che quello che stavamo facendo aveva solide basi che tra l'altro c'era una cosa c'era di fronte a una prospettiva di sviluppo è stato fatto come un passaggio burocratico qualsiasi no? E questo ti dice di quanto manchi un po' la visione anche sul non solo sui treni ma sul trasporto pubblico in generale. Ecco mi ha dato un assist consigliere perché Trenord però lamenta una cosa da sua parte dice noi perché se non sbaglio mi dica lei Trenord ci mette i treni giusto? I treni sono i Trenord e il personale che gestisce i treni e li fa andare avanti e indietro. Ok perfetto. Le infrastrutture le infrastrutture non sono i Trenord e Trenord si lamenta a dire eh noi lo faremo anche il servizio svizzero per intenderci ma è colpa delle infrastrutture. Lo vediamo anche con gli scioperi che si dice sempre i servizi, i nostri, i nostri. Ah no non fanno scioperi. Quindi com'è sta storia? Cioè chi è che alla fine fa il peccato originale qua? Allora è chiaro che la rete ha delle responsabilità, la rete è in gran parte salvo 200 qualcosa chilometri è di proprietà di RFI, la rete regionale. Però se andiamo a vedere linea per linea quali sono le determinanti dei disservizi l'impatto della rete è solo minoritario cioè Trenord, vi faccio un esempio, si sta cambiando la flotta dei treni solo negli ultimi mesi, cioè noi abbiamo treni in servizio che hanno la mia età dell'ottanta, cioè abbiamo treni che hanno 43 anni che sono ancora in servizio, non mi pare sia il massimo per la prima regione d'Italia, no? E poi abbiamo dei problemi strutturali su cui però non è stato ancora messo mano, voglio fare un esempio. È chiaro che negli orari di punta il nodo di Milano è una questione è una questione di assoluto rilievo ed è difficile per tutti da affrontare, però non lo si è fatto e come dire sia indietro guardando indietro che guardando in avanti ci sono una serie di errori prospettici che stanno minando non solo il servizio regionale ma proprio tutto il trasporto pubblico. Vi faccio un esempio, noi crediamo che sia una follia andare oggi ad investire 400 milioni di risorse pubbliche per i treni ad idrogeno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo che è un servizio ovviamente anche poi di montagna quindi anche importante, però che sposta quotidianamente 5 mila persone e che ha seguito dell'introduzione del treno ad idrogeno su una rete marcia e lo dicono i periti che la rete è marcisciente, quindi su una rotaia che sarebbe da ribaltare, da rifare completamente ma questo non è nei radar. Ecco, dopo l'avvento del treno ad idrogeno sposterà ancora 5 mila persone. Allora, qual è il contributo? Tra parentesi con un aggravio di spesa corrente di circa 24 milioni di euro in più all'anno, 24 milioni di euro in più che andranno sottratte ovviamente alle risorse complessive del trasporto pubblico. Chiarissimo, allora consigliere, la teniamo ancora un attimo qua, prima però ci prendiamo un treno, perché ci prendiamo un treno tutti insieme, un treno che porta a destinazione Paradiso con Gianluca Grignani. Paradiso Città, chissà se mai avremo questo treno che ci porta a Paradiso Città gestito da Trenord. Per Grignani era l'ultimo treno. Anche per molti pendolari che solcano la Lombardia è sempre l'ultimo treno, o meglio, l'ultimo treno è quello che si perde ogni volta. Allora abbiamo il consigliere Simone Negri in collegamento con noi, il consigliere regionale, stavamo parlando di trasporto, abbiamo pochi minuti ma so che c'è un tema che ti interessa. Sì, poi parliamo un attimino di soldi, però noi facciamo la segna stampa e praticamente ciclicamente ogni settimana una notizia, due, tre sulla metrotranvia di Limbiate la troviamo sempre, esattamente come il prolungamento dell'M1. Ci vuole aggiornare un po' questi soldi, questi soldi, visto che se ne parla sempre, arrivano o non arrivano? Consigliere cosa si dice? Fino a qualche giorno fa avrei detto arrivano perché c'è stata una violenta polemica nei giorni scorsi con il ministro Salvini che ha risposto direttamente a noi del gruppo regionale PD dicendo che non sapevamo leggere la manovra 2024 e che i soldi ci sarebbero stati. In realtà una serie di comunicati isterici uno dietro l'altro ci hanno fatto capire che era intenzione del ministro reperire le risorse per il prolungamento dell'M1 agli Olmi e per la metrotranvia Limbiate addirittura dalla manovra 2023. Quindi a novembre si utilizzano soldi stanziati, non si sa per cosa per la manovra 2023. Salvini ha detto c'è un decreto urgente in stesura che verrà emanato nelle prossime ore con cui stanzieremo questi 200 e rotti milioni di euro per coprire gli extracosti di queste due opere che i milanesi non solo attendono da tempo. Bene, ad oggi però non sappiamo dove si è finito il decreto. Questa cosa ci preoccupa un po', nel senso che sembrava cosa fatta, c'era anche un comunicato ufficiale del MIT, però per quanto ne sappiamo noi il decreto non è stato ancora pubblicato. È vero che passa un po' di tempo, ci sono i controlli, le ragionerie e via discorrendo, ma considerato che non sarebbe la prima volta che le promesse di Salvini poi si rivelano vani, qualche preoccupazione ce l'abbiamo, mentre va avanti alla grandissima il ponte sullo stretto, c'è questo tema che crea fibrillazione in tutta Italia, ci sono opere qua in Lombardia, a Milano a cui mancano poche risorse per poter partire proprio per la questione degli extracosti, ma abbiamo progetti già definiti e sappiamo quale sarà l'impatto sul territorio, invece si pensa di destinare 11,63 miliardi di euro per il ponte dello stretto nel 2033. Sì, ecco i soldi lì sul ponte dello stretto. Facciamo il ponte sul lago di Edolo, ci facciamo passare i treni ad idrogeno, sono tutti insieme. Dobbiamo fare il nuovo ponte tra Paderno, Dada e Calusco per i treni, che è un tema invece importante, il collegamento Milano-Bergamo, Bergamo-Milano come volete. Eh sì, sì, sappiamo che è un tema molto importante quello e spesso volentieri vediamo che anche lì la linea, insomma, zoppica un pochino spesso volentieri. Consigliere, la dobbiamo salutare, siamo arrivati alla fine in realtà, quindi io la ringrazio per quello che ci ha raccontato, ci sarebbero tanti altri temi, su tutti uno che mi incuriosiva, il fatto che arrivano adesso 28 milioni di euro a Regione Lombardia, che tra l'altro ho pensato non è che ne siano neanche tantissimi, cioè 28 milioni non è che ci fate chissà quanto. No, prima ho detto un sacco perché per noi sono tanti, per una Regione forse pochi, ma soprattutto di questi 28, 18 ce li prendiamo noi di Milano però. Sì, allora il fatto che 18 arrivino a Milano è normale perché sono i criteri di ripartizione in virtù dei costi standard che hanno le varie agenzie del TPL. Però, avete detto bene, il trasporto pubblico locale in realtà vive di 670 ormai milioni di euro e è in difficoltà perché mancavano diversi soldi. Queste maggiori risorse sono regionali solo per 3 milioni, perché in realtà lo Stato ha stanziato 32 milioni come saldo rispetto al Fondo Nazionale di Trasporti, quindi è inutile che l'assessore Lucente si vanti di aver distribuito risorse alle varie agenzie del TPL, a parte che facendo l'amministratore pubblico, facendolo a novembre impedisci qualsiasi tipo di programmazione lungo l'anno, adesso non è che gli si dai soldi per fare i servizi a Natale. E poi il tema è che sono soldi dello Stato, anzi c'è un piccolo giallo anche qua perché in realtà arrivano 32 milioni, Regioni Lombardia dei 32 in estanzi alle agenzie 24, più 3 che dice che sono soldi nostri per fare il buon gesto e per far vedere che ci mette un pezzettino anche lei, però 8 milioni di quelli che arrivano rimangono alla regione e non sappiamo come mai. Va bene, allora indagheremo anche su questo, ci dirà lei se trova questi 8 milioni da qualche parte in giro lì, ci dica per cosa vengono utilizzati, va bene, grazie. Grazie mille al consigliere Negri. Grazie consigliere. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro al consigliere.